Il ciclismo tutto lucano che si fa notare a livello nazionale, un 2015 che parte nel migliore dei modi con il giovanissimo Alessandro Verre originario di Paterno che si aggiudica il Giro d'Italia ciclocross, vogliamo parlare di questo e dell'intero movimento ciclistico lucano con il presidente della federazione ciclistica italiana di Basilicata Carmina Acquasanta, ben trovato presidente, partiamo proprio da questo bellissimo risultato, parliamo di un giovanissimo atleta dicevo, 14 anni per lui, originario di Paterno, fresco di successo l'ho tenuto in occasione della prima domenica di questo 2015 a Roma, settima e decisiva tappa di questo Giro d'Italia ciclocross, lui era l'atleta da battere, aveva la maglia rosa e è arrivato secondo, doveva tenersi alle spalle e l'ho tenuto alle spalle l'atleta che è arrivato terzo ed è stata una grande festa, con grande merito per Alessandro Verre, presidente. Sì, per noi è stato un risultato storico, tra l'altro fatto da un'atleta giovane per noi significa ovviamente anche avere la giusta gratificazione, perché credo che questo significhi che le società che hanno affiliate lavorano nel settore giovanile, che credono siano le condizioni che la federazione pone per poter investire e avere domani gli atleti di livello nazionale e internazionale. Alessandro è stato ovviamente, come ricordavi tu prima, ha vinto i Giori d'Italia, per noi è stato un motivo di enorme soddisfazione, ha conquistato la maglia nell'ultima tappa delle cinque giornate previste e poi l'ha difesa in maniera ottimale l'ultima tappa. Ovviamente non ti nascondo che ieri, l'altro ieri, dove si sono disputati i campionati italiani di Cilocross a Pezza del Greco, tutti quanti speravamo in un bis, ovviamente sarebbe stato un risultato eccezionale, ma il secondo posto equivale secondo noi a una vittoria, anche perché credo che poi il Giori d'Italia premi forse l'atleta più completo, che ha dimostrato di avere una condizione mantenuta nel tempo, in quanto si è svolto in cinque appuntamenti, il campionato italiano, sfoggendosi in un'unica manifestazione spesso, anche l'incidente meccanico ti può determinare un risultato diverso da quello che magari tutti si aspettavano, quindi bravissimo Alessandro, un grandissimo grazie a lui e alla società, ai tecnici che lo allenano e hanno dimostrato il lavoro ottimo che fanno. Noi stiamo vedendo delle immagini che si riferiscono proprio alle tappe decisive, la penultima è l'ultima che hanno permesso al giovanissimo Alessandro Verre di conquistare questo titolo, un giro d'Italia ciclocross che è molto interessato, è quest'anno più internazionale che mai, organizzato dall'associazione sportiva Romano Scotti, con tappa finale alle Capannelle a Roma, un grande scenario, una grande emozione anche per gli stessi ciclisti e non solo, ed erano davvero in tanti a partecipare, ovviamente suddivisi nelle varie categorie, però è un movimento che sta crescendo, quello del ciclocross e che poi permette di ottenere soddisfazione anche su strada, questo è un argomento che dobbiamo affrontare perché è la nuova realtà. Sì, infatti oggi i migliori tecnici lavorano proprio nella multidisciplinarità, il corridore che arriva ai massimi livelli anche su strada viene comunque da esperienze di fuoristrada dove impari in maniera decisiva l'utilizzo della bici, in quanto devi affrontare spesso tratti di strada non asfaltati, qui bisogna anche scendere dalla bici, metterla addosso, saltare degli ostacoli, quindi questo determina poi, sviluppa delle facoltà di equilibrio che poi per un corridore anche su strada sono determinanti, proprio perché in bici poi bisogna neanche saperci andare, oltre che essere forti nelle prestazioni che ciascuno fa, spesso capita su strada di dover anche affrontare delle pendenze difficilissime, per cui se non hai una buona convidenza col mezzo che conduci diventa difficile poi anche portare a casa i risultati. Ecco è chiaro, forse è troppo presto per guardare avanti, ma Alessandro Verre secondo il Presidente Acquasanta potrà dire, già sta dicendo la sua, però Alessandro vorrei ricordare che è anche campione regionale su strada, per cui sicuramente è un ragazzo che seguiamo con notevole attenzione, non è solo perché abbiamo anche altri ragazzi che come lui dimostrano di avere grosse qualità, ovviamente dobbiamo cercare di non enfatizzare assolutamente questa situazione qua, ma conoscendo Alessandro che è un ragazzo tranquillissimo, ma come tutti gli altri che ripeto abbiamo, anche perché le società sanno che l'importanza in questi casi è più che l'altro gestire l'atleta senza crearsi, face illusioni, ma credo che anche le esperienze passate con atleti che abbiamo dimostrano che il nostro ambiente è pronto anche a maturare, a far sì che questi atleti maturino e che poi domani ci troveremo speriamo in una platea più ampia. Abbiamo detto originario di Paterno, la sua società sportiva, la Locobike di Paterno, una piccola ma interessante realtà a livello ciclistico. Sì, noi abbiamo il nostro territorio, la nostra regione pur nella sua dimensione limitata, devo dire che lavora in maniera qualitativamente eccellente, ne abbiamo, mi piace anche ricordare, abbiamo i vari settori nazionali, quindi nei vertici delle strutture tecniche, abbiamo tre nostri rappresentanti, nel ciclo cross abbiamo un referente responsabile, è proprio Lavieri che è un dirigente, un tecnico di Paterno, proveniente dalla città di Alessandro Verre, abbiamo nella pista un responsabile del settore di pista, della struttura nazionale che è l'Ioi e nella strada abbiamo Sileo, altro referente della struttura tecnica, per cui diciamo che la Basilicata è rappresentata ai massimi nazionali, in tutte le strutture, pista, strade fuori strade da ogni rappresentante, che non è una cosa semplice per una regione piccola come la nostra. Sei stato personalmente alle premiazioni che ci sono state il sabato e ti è toccato premiare Verre. Sì, è stato per me motivo di grande emozione, non avendo potuto essere presente nella vittoria della Maglia Rosa alle Capanelle a Roma, fortunatamente il sabato e domenica sono stato con i colleghi del Presidente regionale, con il Presidente nazionale, con i tecnici a Pezza del Greco, dove abbiamo goduto due giorni di Endusias Mandi, di Cilocross, preparati in maniera eccellente dall'ex camion del mondo, Vito Ditano e quindi mi hanno dato questo onore di premiare il nostro atleta lucano. Sono soddisfazioni anche queste per un Presidente della Federazione, da sempre, lo ricordiamo, amante delle due rote, Carmine Acquasanta, inizia il 2015, abbiamo detto, per il Movimento Lucano è iniziato nel migliore dei modi, ci saranno altri appuntamenti, ci sarà un altro appuntamento importante, proprio domenica. Sì, noi da due anni facciamo, forse anche questa credo sia iniziativa che comincia a dare dei risultati, credo che Verre, ma ripeto non soltanto Verre, dimostrino che il lavoro che stiamo facendo con gli altri comitati vicini, alla fine premia. Sono due anni che abbiamo organizzato questo trofeo Tremari, che viene organizzato dai comitati Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e dall'anno scorso anche da Molise, l'abbiamo fatto e lo facciamo in tutti i settori, sia nella pista che nella strada che nel fuoristrada, dove ogni comitato garantisce un delegare per ogni settore e quindi riempiamo il calendario di attività e anche per consigliare le città stesse di non fare grosse trasferte proprio per i costi che poi le trasferte stesse comportano, che tra l'altro è fuoristrada, soprattutto il ciclocross, la regione ovviamente principe rimangono in Veneto, in Friuli, per cui spesso le nostre società per poter fare, per esempio in Gio d'Italia, sono costrette a fare trasferte molto distanti e quindi ad accorrarsi delle spese notevoli. Noi stiamo cercando di fare questi progetti che limitano questo tipo di trasferte, domenica concludiamo a metà pondo con una manifestazione di ciclocross, il trofeo 3 mara di ciclocross, dove ci saranno le premiazioni, dopo aver fatto 9 appuntamenti, 2 in Campania, 2 in Galardo, 2 in Basilicata e 1 in Molise e 2 in Puglia, domenica ci sarà la giornata conclusiva, sarà una festa perché premieremo dopo le manifestazioni i vari vincitori degli eventi. Questo possiamo ritenerlo di fatto il fiore all'occhiello per quanto riguarda l'organizzazione del Sud Italia, con un'idea partita proprio dalla Basilicata, poi un momento di pausa ci può stare, pochissimo riposo ovviamente Presidente, perché poi si comincerà l'attività su strada. Sì, diciamo che a livello di manifestazioni, dopo il ciclocross c'è un piccolo break, per poi a marzo già si inizia l'attività su strada, per cui ovviamente il break è solo per le manifestazioni che non vengono disputate, ma i ragazzi sono già nelle fasi di separazione, quindi è chiaro che saremo pronti anche per la prossima stagione. Prossima stagione che per quanto riguarda, rimanendo in Basilicata, dovrebbe riproporre il giro di Basilicata? Sì, il giro ha avuto, come tutti sappiamo, un anno scorso non si è svolto per motivi organizzativi, la società organizzatrice ha già scritto la manifestazione a calendario, tal'altro con l'ambizione questa volta di poterla proiettare in una dimensione ancora più internazionale, stiamo lavorando in questa direzione, proprio venerdì abbiamo un incontro con i dirigenti della società per pianificare gli incontri e le varie iniziative da adottare. Quest'anno, dopo due anni importati invece con il Giro d'Italia, la famosa Corsa Rosa, prima la tappa a Matera due anni fa, lo scorso anno a Vigiano, quest'anno gli organizzatori non toccheranno la Basilicata, o meglio, toccheranno pochissimo il Sud. Sì, la tappa toccherà la Campania, il Benevento, quindi quest'anno il Giro ci sfiora soltanto, però credo che sicuramente negli anni futuri tornerà ad essere protagonista, ovviamente noi al di là del Giro dobbiamo comunque continuare a lavorare in questa direzione, comunque nel Giro abbiamo un nostro atleta sempre, abbiamo sempre la nostra bandiera, il nostro punto di diamante, quindi seguiremo sempre con una passione di sempre, nonostante quest'anno ci tocca a vederlo in televisione. Più in televisione, ovviamente bisogna anche sottolineare l'impegno della Federazione ciclistica lucana nel portare negli ultimi due anni il Giro d'Italia in Basilicata, non è facile, è molto dispendioso, è dal punto di vista economico, è dal punto di vista proprio dell'impegno fisico, quindi bisogna anche per riproporre una manifestazione del genere in Basilicata, c'è bisogno che ovviamente ci si organizzi tutti insieme, c'è bisogno di più collaborazione forse Presidente. Sì, ma anche perché tal'altro dovendo organizzare la tappa bisogna fare anche in modo che l'organizzatore e gli organizzatori nel momento in cui portano un Giro in regioni come le nostre devono anche poterlo collegare con le regioni limitrote, perché è impensabile pensare di fare una tappa in Basilicata senza toccare le regioni a noi vicini, la Puglia, la Calabria, la Campania, significerebbe poi sottoporre la corovana da viaggi che spesso non è il caso di fare, quindi deve anche andare in un discorso armonico l'organizzazione dell'intera manifestazione. Tornerà, nel frattempo ovviamente seguiremo il Giro d'Italia, seguiremo Domenico Pozzovivo che è pronto come non mai a dire la sua su strada nel prossimo Giro d'Italia, nel frattempo ci godiamo questa splendida vittoria del giovanissimo Alessandro Verre, Giro d'Italia di ciclo cross, 14 anni, originario di Paterno e lui che lo ha vinto, ce ne sono altri di ciclisti che si impegnano e si fanno notare, è su strada, non su strada in questo caso con il ciclo cross, ovviamente parleremo, torneremo ad argomentare sulla disciplina, per ora ringraziamo per la sua disponibilità il Presidente regionale della Federazione Ciclistica di Basilicata, Carmine Acquasata. Grazie a voi, grazie. Grazie mille, la linea può andare alla regia.